Un saluto agli amici in Italia, sono Tony Quattrone e vi do il benvenuto a una nuova puntata della politica americana vista da Houston. Ieri sera si è tenuta un'importantissima intervista presso la CNN, la prima intervista fatta alla candidata democratica alla presidenza Kamala Harris e al candidato alla vicepresidenza Tim Walz. Prima di parlare dell'intervista vediamo un attimino la situazione con i sondaggi. Kamala Harris ha un vantaggio di 3,5 punti percentuali su Donald Trump. Ormai sono un paio di settimane che porta questo vantaggio e si avrà a vedere se è un qualche cosa di stabile oppure se è semplicemente il risultato del fatto che è nuova e che c'è stato il congresso dei democratici dal 19 al 22 agosto. Vedremo fra qualche giorno se i risultati continueranno così. Ora parliamo dell'intervista che si è svolta. Ieri sera, come dicevo prima, la CNN ha tenuto questa intervista con Kamala Harris e con Tim Walz. I candidati democratici Harris e Waltz avevano necessità di questa intervista perché c'erano diverse cose che erano successe. C'era questo retroscena che i repubblicani accusavano Harris di non essere capaci di parlare senza teleprompter e senza un copione e pertanto non sarebbe nemmeno capace di rispondere dal vivo alle domande dei giornalisti. Praticamente dicono che lei non è all'altezza. La campagna elettorale di Harris aveva già annunciato qualche settimana fa che entro la una conferenza stampa dal vivo e così si sono messi d'accordo con la CNN e c'è stata questa intervista ieri condotta dalla famosa giornalista Dana Bash che molti si ricorderanno che è stata quella presente nel dibattito storico quando Biden ha fallito a fine giugno. C'era Jake Tapper e Dana Bash che facevano le domande a Trump e Biden. Bene, quali sono gli obiettivi dei candidati in questa intervista? Beh, Kamala Harris voleva spiegare, aveva necessità di spiegare cosa vuole fare appena eletta, poi spiegare perché ha fatto un cambio di posizione su alcune cose importanti e farsi conoscere meglio. Tim Walz aveva necessità di spiegare alcune informazioni inesatte, i repubblicani hanno accusato di dire bugie rispetto ad alcune cose che vedremo e poi farsi, anche lui farsi conoscere meglio. Kamala Harris ha parlato insomma del suo piano, dice che lei vuole prendere stupide iniziative per ridurre la pressione economica sulla classe media attraverso specifiche iniziative, c'è un credito d'imposta di 6.000 dollari per il primo anno di vita di nascita di un figlio, un credito d'imposta di 25.000 dollari per l'acquisto della prima casa e di lavorare sulla riduzione dei prezzi, in particolare degli alimentari. Dana Bash ha chiesto ma come mai non avete fatto queste cose subito e ha spiegato che durante i primissimi anni di questa amministrazione Biden, quando loro sono arrivati al governo hanno dovuto subito riparare i danni causati all'economia dalla cattiva gestione della crisi Covid da parte di Donald Trump con la perdita di oltre 10 milioni di posti di lavoro e centinaia di persone che morivano ogni giorno, cioè quella era la priorità. Purtroppo si è creato anche una spirale di inflazione e ovviamente anche se molte delle politiche che Biden e Harris hanno messo in atto hanno permesso agli Stati Uniti di avere una ripresa tra le più veloci, forse la più veloce tra le nazioni più ricche del mondo, però Harris sa benissimo che ci sono ancora tanti problemi. E' vero che è stato abbassato il costo dell'insulina a 35 dollari al mese e si è riuscito a fare questo, si voleva addirittura spanderlo a tutta la popolazione ma si è riuscito a farlo solo per gli anziani per opposizione dei repubblicani al congresso. Il tetto massimo di costo annuale dei farmaci per gli anziani è di 2 mila dollari, si è riuscito a creare 800 mila nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero riportando le imprese in America ed è stata migliorata anche la catena di approvvigionamento per non fare più affidamento sui governi stranieri per soddisfare i bisogni primari delle famiglie americane. Ora Harris è stata, insomma Dana Basha subito è andata nel merito alla questione delle politiche e delle posizioni che lei ha cambiato negli anni perché durante nel 2018 e nel 2019 insomma Harris aveva delle posizioni molto dure sulla questione del fracking per esempio era per il divieto completo e lei ha spiegato invece che dalla campagna del 2020 già allora lei non ha più sostenuto questa necessità di abolire i fracking e che negli ultimi 4 anni non ha preso alcuna iniziativa per la sua abolizione, anzi nel Senato dove c'era un pareggio fra repubblicani e democratici con 50 senatori da una parte e 50 dall'altro, lei che vota al Senato quando c'è questo pareggio, lei ha dato il voto decisivo per concedere addirittura ulteriori licenze per il fracking. Perché è importante la questione del fracking? Perché lo Stato della Pennsylvania che è critica per vincere le elezioni ha quasi 500.000 posti di lavoro che sono nel campo del fracking, se non mi sbaglio penso che siano proprio 500.000 posti di lavoro, allora chi si mette contro il fracking completamente rischia di perdere le elezioni, insomma perciò viene fatta questa domanda, i repubblicani una continuazione mettono in risalto che lei era contraria al fracking. Lei ha anche notato che possiamo crescere, possiamo incrementare una fiorente economia basata sull'energia pulita senza vietare il fracking. Poi è stata fatta anche una domanda sull'immigrazione clandestina, perché anche lì lei parlava di essere più morbidi su tutta la questione dell'immigrazione illegale quando lei era in California, quando era procuratore eccetera, però ha ricordato a tutti che lei in questa gara elettorale è l'unica persona che ha perseguito organizzazioni criminali transnazionali che trafficano in armi droga ed esseri umani. E dice anche che lei e Joe Biden hanno lavorato con alcuni dei membri più conservatori del congresso degli Stati Uniti per elaborare un disegno di legge per proteggere i confini, ma che Donald Trump ha detto ai suoi colleghi al congresso non proponetelo perché pensava che questa legge lo avrebbe danneggiato nella campagna elettorale. Poi ha ribadito però che anche se ha fatto dei cambi di politica i suoi valori sono sempre gli stessi. Ha detto che c'è stata la cosa più importante, che i valori non sono cambiati. Poi Tim Walz gli è stata fatta qualche domanda sulle inesattezze rispetto per esempio al fatto che lui aveva dichiarato di aver portato, parlare, fare un discorso contro le armi per proteggere i ragazzini a scuola e così via, sulle armi d'assalto, le armi da guerra, lui aveva detto in modo sbagliato per le armi che ho portato in guerra. Lui ha fatto il militare per 24 anni ma non è stato in guerra e avrebbe dovuto dire per le armi da guerra che ho portato nel servizio militare. Invece ha sbagliato questa cosa, i repubblicani hanno pescato questo video e dicono che lui dice il falso rispetto alla sua carriera militare. Ammette di non essere stato preciso, anche è stato criticato sulla questione di quale tipo di trattamento per la fertilità. Si è entrati proprio nel dire ecco hai detto che hai usato questo invece era un'altra cosa, ha detto sì è vero però si parlava della questione della fecondazione artificiale, del trattamento dell'infertilità e così via e poi ha anche chiarito che è vero che ha sbagliato in una campagna elettorale precedente quando si è parlato di un arresto che aveva subito per un stato di ubricatezza e io mi sono presa le mie responsabilità e ne abbiamo già parlato pubblicamente. Sulla questione Israele e Palestina Kamala Harris è intervenuta ribadendo quanto aveva già detto al congresso, cioè che è importante, lei è per la difesa di Israele, che Israele deve essere difesa, però che anche Israele ha il diritto di difendersi ma come lo fa è importante, cioè non è che può difendersi con tutti questi morti a Gaza, queste morti innocenti e aveva concluso assolutamente un accordo, poi ha riconfermato che per lei è importante che si vada verso la soluzione a due Stati in cui Israele si assicura in qual misura i palestinesi abbiano sicurezza, la determinazione e la dignità. La mia valutazione, io penso che Harris e Walz abbiano chiuso la partita sulle contraddizioni che venivano evidenziate dai repubblicani a proposito delle svolte politiche di Harris, e sulle inesattezze di Tim Walz. Penso che hanno dato la possibilità agli americani di vedere due candidati calmi, normali, che rispetto al caos e all'aggressività di Donald Trump e J.D. Walz fans non hanno mai attaccato i giornalisti, non hanno mai fatto quella tipica cosa di Trump di essere sempre arrabbiati, avere sempre qualche accusa da fare. È stata anche molto presidenziale, Kamala Harris è stata molto tranquilla in quello che diceva, nel modo di porsi. Bene, io ho messo dei link per chi volesse vedere l'intervista per intero, sono tre link perché la CNN ha diviso in tre parti, sono un totale di 27 minuti, meno di mezz'ora insomma, e metto anche la trascrizione in inglese. Se trovo quella, la traduzione in italiano, inserirò anche quello nella descrizione del video. Ciao a tutti e a prestissimo.